Questa è la piazza di Lugo di Romagna, completamente allagata, il pavaglione è completamente allagato, la corrente è fortissima, si sta dirigendo verso il monumento di Baracca, sotto il pavaglione ci sono almeno 50 cm d'acqua e la corrente sta spazzando via tutto, compresi i bidoni dei rifiuti che non sono stati raccolti e quindi per tutta la piazza rifiuti ovunti. Questo è Lugo, via Baracca, completamente allagata da dove viene l'acqua, idem Corso Garibaldi, idem via Emaldi dove c'è la biblioteca, a rischio fortissimo anche il piatto rossino.